Musica Quale è il coloro che preferite? Blu, lame, fucsia, verde, rossa e giallo Sai cosa vuol fare da grande? Sì, un dottoressa, il cuoco Il meccanore Il polizio Il detective Qual è la cosa che ti piace fare di più? Attaccare gli addensivi Giocare con le bambole Giocare con i ligni Qual è il cartelletto che preferisci? Mia Il super winks e il super picture E della carica Il taraggio Orre Le papi Vitamini Il super winks Il personaggio tuo preferito qual è? Giocare con i ligni Donnie Giorgio Cicco E chi è il personaggio preferito di mamma e papà? Giocare con i ligni E chi è il personaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti